Invece un punto derimente per andare avanti è evidente che se si chiede e si fa l'appello all'unità di tutti, noi per due anni e mezzo siamo stati all'opposizione, indipendentemente dal giudizio su un ministro o un altro, quindi non c'è un problema di veto. È naturale che il metodo, sia questo un governo tecnico o un governo politico, la nobiltà della parola politica vale per un tecnico o per le ipotate che siano migliori, espressioni di culture che possono rappresentare, di sensibilità e di capacità che possono rappresentare l'intero Parlamento e l'intero Paese. Non si può pensare o immaginare che proprio per questo sforzo di lavoro unitario non ci sia una discontinuità, ma non è un problema di veto. Per quanto riguarda il Presidente Conte, indipendentemente dai problemi interni al Movimento 5 Stelle o al Partito di Conte, io ritengo che l'uscita oggi del Presidente Conte, anche da un punto di vista della plasticità, direbbe Vittorio Sgarbi, è un gravissimo errore. Prendere, uscire da Palazzo Chigi, davanti a Palazzo Chigi, da Presidente ancora comunque del Consiglio in carica per gli affari ordinari, fare un comizio con la scrivania in modo che non si veda Palazzo Chigi, perché così si pensa che ritorni a fare l'Avvocato del Popolo per poi dire queste cose, è la giusta fine dei 15 giorni indegni a cui abbiamo assistito. Ma se vogliamo ritornare ovviamente nel merito, ma mi assumo io personalmente la responsabilità del giudizio che sto dando. Ma questo non preclude invece all'appello che continuiamo a fare, perché è chiaro che nel momento in cui ci si rivolge a tutti il tema sarà la sintesi che il Professor Draghi ci darà e che i partiti che dovranno sostenere tra loro dovranno farlo. Se sarà una sintesi alta, se sarà una sintesi che guarderà al futuro mettendo a cuore le cose che ci saranno. Da questo punto di vista credo che proprio perché siamo la componente, diamo il nostro contributo al termine della coalizione del centro-destra, ci confronteremo come abbiamo detto con gli altri leader del centro-destra proprio per far valere le nostre ragioni che adesso abbiamo dopo l'incontro avuto col Presidente Draghi e che avranno gli altri esponenti dei partiti della coalizione del centro-destra nei prossimi giorni.